Arrivai a Lugano in novembre del 1936 col compito principale di formare e di dirigere un complesso corale che poi doveva diventare il coro dell'RSI. Edwin Lohr era sicuramente la personalità di maggior spicco da punto di vista musicale emersa all'RSI. Oggi si ricorda ancora l'importanza culturale di questa presenza di Lohr, anche come una presenza di valore civile perché riuscì attraverso questa scelta di musica italiana, rilascimentale e barocca a rinforzare l'identità e l'italianità, l'identità culturale del nostro paese assicurando all'RSI quella specificità che gli viene dal suo compito di essere la radio della terza Svizzera. Quindi paradossalmente abbiamo avuto come figura chiave per la musica che ha dato un profilo di musica italiana alla nostra radio uno svizzero tedesco. Come direttore era molto difficile da trattare con lui. Partiva dal presupposto e lui sentiva subito se qualcuno viaggiava un po' senza impegnarsi troppo. E loro si arrabbiavano e cominciavano a scavare, obbligare di dare il massimo di quelle che erano le loro possibilità. Svizzera 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 Svizzera